Mi raccomando se non vuoi perderti nessun video su questo canale ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi prima di iniziare volevo chiedere scusa ai proprietari delle tre uova che avremmo dovuto schiudere nello scorso episodio. Purtroppo avevamo registrato le clip per farvele vedere all'inizio di questo video, però ragazzi purtroppo sono esplose le clip e quindi non siamo riusciti a farvele vedere. Mi dispiace, comunque li vedrete in video molto probabilmente e nulla. Buona visione! Saluti ragazzi e benvenuti in questo ventinesimo episodio della Egglock, poco con diamante e perla. Qui con noi c'è... Saluti ragazzi, io sono Tia e ben ritrovati nell'ultima parte che ci farà smadonnare male. Non è l'ultima parte. Sì, vabbè, in una delle ultime parti che ci farà male. Ok, perfetto, Tia, ragazzi, fatelo stare zitto. Allora, abbiamo allenato un pochino la squadra, sono tutti a livello 55-54, insomma quelli vedi lì. Le new entry del mio team sono Miracle, ossia Arceus e Death, ossia Unchrow. Dovresti aver visto la sua schiusura quasi all'inizio del video e nulla, sì, è il Pokémon che è uscito dal... Come si chiama, Tia? Come si chiama? Dalla cosa? Dall'uovo! Dall'uovo! Non mi veniva, non mi veniva, no, è antivirus di merda, tua madre, tua madre virus, altro che... Io comunque sto già entrando. Sì, sì, adesso andiamo anche noi e nulla, lui è stato il Pokémon che era, che ho scelto al posto di Gulbi. Insomma, voi volete vedere l'ignoranza, è vero? Non volete le mie spiegazioni? Quindi andiamo. Comunque abbiamo allenato un'ora e mezza. Sì, e tra l'altro abbiamo una gioca, porca, ma io non so te ti amo, io ho anche allenato i Pokémon quelli... Beh, a parte i Death, ma anche quell'altro che stava nel box. Ah, no, 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 no. Dalla scusura. Raga, sono stanco e sono depresso! Forse ti va di culo, non gli augurali. Stai scherzando? No, no, c'è dall'ultimissima lotta che era per allenare Venus, avrò, mi sa. Ah, beh, allora, io sono anche super qua. No, io non ho tolto la Darkies autodistruzione e sgrano... Autodistruzione e esplosione. Ragazzi, siamo qua da un'ora e mezza, non siamo andati anche dall'eliminamento. Ops, stanno da due ore in realtà. Sì, sì, tecnicamente... Due ore per due episodi. Tecnicamente sì, tralasciando che tipo... Eh, no, sì, a metà per l'appunto c'è il grinding ignorante. Porco cane! Eeeh, mi ha grittato questo orbi pugno su Archeas. Rip! Che cazzo metto, però! Oh, figa, devi morire me, diciamo, olè, perfetto. Io so, è andato giù il primo, perfetto. Primo poco mi ho buttato giù anche io, però c'è un Donphan che non so, è una difesa... Beh, ma è come secondo me, c'è anche pallagero, sto coso. Onesto. Raggia un'ova, fa un culo, raggia un'ova. Depp, stai fermo! Il cazzo ha con... Di che ti sta andando bene, Tia, comunque, complimenti. Perdo sette Pokémon, se non mi entra Bora ho perso... Ve le impor... Sì, entra Bora e non gli faccio neanche metà vita, dai, entra anche il secondo Bora, non entra... Il terzo Bora non entra... Ti pare, ma tu che ci credi anche, magari? Il quarto Bora è entrato. E? E l'ho ucciso. Ah, buono. Però ho già due Pokémon a vita gialla. Sì, c'è un plato che... E non ho visto chi mi entra adesso. Sì, comunque, raga, a meno che Tia non si autosuicidi, io ho perso la serie, non volevo... Non volevo dirvelo. No, ma non ce la fa... No, fidati qua, non esco con tutti i Pokémon, ma per... E ho capito, devi perdere... Devi perdere mezzo team e io non ne devo perdere nessuno, cioè, lascia fare, non ce la faccio più io. Sì, vabbè, Rampardos con Super Zanna! E che cazzo! Fare click qui per rimettere la password più recente. Eeeh, ricarica totale. Eeeh, no, la confusione non la fa passare. Porca troia, perché mi si deve bloccare la ROM? Figa, oh, Ale, ce l'abbiamo fatta. Via, anche lui, io ho ricaricato hot, tu madre zucca. Io ho vinto contro il primo. Eh, beato te, questo... Non bello, c'è la cosa... No, tia, non parlo, ho 23ps, ho 23ps, tu mi hai fatto bippare di dolce, lo so, però tia, mantieni la calma, non far sì che la vendetta abbia... No, no, entro in fida di bestemme, ti giuro. No, non farlo, non farlo, non farlo, non farlo, non farlo, non farlo, non farlo finita. Eh, vabbè... Eh, vabbè... Eh, vabbè... Eh, vabbè... È il quinto turno che sono confuso! Quanto sei stupido, Groudon! Allora, vediamo se riesco nel frattempo che tanto dobbiamo aspettarti ad insegnare delle mosse decenti a cosa, a darci... Eh, non sono più confuso, figa, sette turni dopo, Groudon, del cazzo! Come è possibile sette turni dopo? No, era per modo di dire, però... Allora... Eh, niente da fare, vabbè... Eh, su, cazzo! Gesù è diventato Gali, fammi capire! C'è il culo ancora! Ma switch, però, aspetta a pietra taglio su Astrid, non fa un cazzo! Oh, Gesù, ragazzi, che vita! Io vado a fruttare il secondo! O vado di priority, sti cazzo! Ossia Terry, giusto? Un'altra francese di merda, non è un'altra col culo sporco, certo! Snubble! Vai dai, snubble! Non puoi non buttarlo giù, zio, dai! Sia, evitiamo gli orgasmi in questo video, mi piace! Sia, nel senso! Sia, figa! Oh, Rachel Schoolgirl, che ha bocciato, giusto un paio di volte hai vinto? Tipo 60 anni di bocciatore! Che fa che bello! Hai vinto? Sì, sì! Ok, perfetto! C'era perfetto un cazzo, devi perdere, devi morire male, però... No, c'è Barboccio ha fatto autodistruzione. No, c'è, è morto, è morto anche. No, è... No, io... Io non... Vuoi darla verso ora? No, io non lo so. No, sta morendo merda. Certo che anche tu, non fa feccia da liga. Cristo addio. Zì, c'è, io... C'è, io in due... C'è, raga, voi siete testimoni, comunque, cioè voi state vedendo. Mi sono avvenuti due autodistruzioni di fila in due episodi. Un po' che mi ha fatto un po' che non mi ha fatto caduta, ma si succede, un altro po' come è morto per destino obbligato, un altro non è morto per esplosione. Io, questa serie... C'è, è andato anche etno. È morto? Sì. Oh, interessante. Eh, ma utilizzato... C'è, dai, però cazzo, la randizzazione di sto gioco fa veramente cagare, eh. Interessante. Perché mi trovo un po' che è un d'acqua con una mossa di titolato? La seconda è la cosa divertente, è che siamo bloccati alla Lega. Eh... Interessante. Comunque, è durato molto il mio ancio, lo vorrei far notare al gentile pubblico. No, ma, più che altro... Cosa stavi dicendo, prego? Cos'era quel... Quell'aforismo? Ok, io... A regola dovrei aver vinto questo spirito, ok, sì? Ultimo un tentacool, dai, dovrei avercela fatta. Comunque, boh, tia, io sinceramente adesso, boh, magari no, però... Sinceramente penso che... Di non meritarmi una sconfitta così netta, perlomeno, perché sto vendo una stiga allucinante. Sei un Pokémon sotto. Zio, ho sette morti. Io quante cazzo ne ho, scusami. Quattro. Conta, Dio, conta. Boh, ma sai che volendo potremmo fare anche gli altri, se tu ce la fai? Siamo sette. Io vinto. Cosa, ragazzo, perché mi sta salendo il porco? Sì. Tu sai chi? Esatto. In molte morte. Innominabile. Troppi promessi sposi, tia. Esatto. Ok, ce l'ho fatto. Che faccio, andiamo a fruttare gli altri? Eh, facciamo tutti e quattro. Sti calzzi. Città, l'episodio durò 30 minuti, perché al quarto non riuscirono a vincere neanche per sbaglio. Oddio, vulcano, l'uomo qui puzzerano. Un set buono per canterare un po' di gente. Dio, buono. Adesso io, a me è morto, ma... Buono, ragazzi, io sto finendo questa serie da depresso, cioè, non lo so, non lo so. Aspetta che io devo dare un paio di etere, cioè, devo dare... Eh, io ci ho già pensato, ok, perfetto, ma ha mandato Meryl, cioè... Oh, ho sbagliato. No, l'ho dato a giudizio, vero? Ehi, cosa hai fatto, tia? L'ho dato a random. Oh, finalmente hanno imparato usare le pozioni, e un po' che non diventavano tumorelli, questi cazzo. Fuoco carica. Ok. Spaccaroce muore. Ok, per aspetto. Devo cambiare. Io ho avuto difficoltà a buttare giù Meryl, zio, cioè... Con Darkrai non riuscivo a buttare giù Meryl. Aspetta, adesso è... Non so che mettermi da... Vulcano è inquietante, ma ho mandato tre Pokémon che veramente... Oggi allogiano praticamente liquidato. Hai capito? Vulcano, liquidato. Eh, sì. Troppi, minchia geloraggio, minchia geloraggio, minchia, minchia, ti faccio diventare figa una bete da per quanto... Così. Forma, non forma Lola confirmed. Oh, io me la rischio. Scisor contro merda, dai, maggi fuoco, va giù. Buttagio quel duduo. Dudu. Dudu, 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 attenzione alle pronunce. Vabbè. Olè, vinto. Vinto che contro Vulcano l'ho abbattuto. Io non ho più nessuno di super efficace contro il tipo acqua. Bello. Bello, bello. Ok, anzi. Io, zio, ho stravinto con... Pazienza quanto toglie da un livello 61. Non ne ho idea. Non mi shotta. Non ne ho idea. Che è successo? È morto fiore. Dai che la recuperiamo! No, ma più che altro mo la perdo io stasera. Quattro Pokémon, eh. Alla Lega. Sì, 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 sì. Mi cattia, sto sborrando sangue. Io ho battuto Vulcano, vado ad affrontare il quarto. Deh, minchia, se non mi fosse morto sto Ancelou di merda. Cosa cazzo ho usato? Centripugno, mo? No, vabbè. Non ho nessuno che mi legge Centripugno. Su quattro Pokémon. Raga, sto godendo un pochino. Vip. Io sto affrontando il quarto, tia. Sì, però ho messo davanti Farfetch anche io. Che cazzo faccio? Vuoto onda! Ma veramente? Cosa è successo a sto giro? Sto cercando di capire chi... Perché non ho messo dentro Arches prima che ha terremoto contro Rayleigh Hunt? Minchia, grave l'alcontromerda, no? Ritorna subito. Ci manca... Puttolo giù che se no mi muore anche Arches. Ce l'hai fatta? Fanfi, fanfi, fanfi. Cazzo di elefante tumorato di merda. Dai, che se mi va bene forse riesco, riesco... Almeno la perdo dignitosamente. Che già ci sta se la perdo dignitosamente. Perché è fattibile, no? Sì, ma io ho quattro Pokémon per battere gli ultimi due. Come? Pineko, Pineko, sei autodistruzione. Sei ancora a Terry? Sì, ma buttato dentro un Rayleigh Hunt. Che cazzo era? Era investito io... Stai scherzando? No, ti giuro. No, non sono a Terry, ma va. Sono a Volcano. Ah, minchia. Di che tipo è Pineko? Coccolotto? Coccolotto? Paldiali. Boom. Figliatro. Con che arroganza me lo stai dicendo, scusa? Non poca. Ottimo. Sì, ma io non ho neanche più mono. Cazzo, bastava zio, bastava che non mi morisse Ancelo, ce l'avevo quasi fatta, Dio Cristo. Sì, e... No, dai, tia, figa. Me ne fate fare 5 o 6 nel episodio scorso. Te lo concedo. Non replicare. Zitte in cassa. Mettono anti-astri, dove ci fai che mi muore, Astrid, adesso? Non voglio scommetterci. Ti giuro proprio no. Olè, Frostlass, Dio mio. Fammi fare un save un attimo, perché qui mi parte un tumor, se no. Figa la codifica. Che due coglioni, che due coglioni quadrati, cazzo, Archimede, levati. Gesù Bambinello. No, ma Camilla, guarda che Camilla con... Un 4 Pokémon non ce la favo. Cioè, almeno io. Eh, io ne ho 5, cioè. Capirai. Empolion, vabbè. Ma no, dai, il corpo di fuoco, eh, il corpo di fuoco, se ne è certo. Eh, ma cazzo si chiama quello che paralizza, Stato. Dragospiro, colpo statico. Statico, statico. Perché ho detto Dragospiro, non lo so neanch'io, però vabbè. Gloom, vai con Grodon e volo. Dai. Ora sposta sto continente, Grodon. Oh, brutto colpo su Empolion, Godo. Ho diventato sub Gloom, meno male che sono più lento io. Zio, ma ho mandato relica. Dopo quello che mi hai detto, io ho un pochino la cacchina addosso. La strontata su Grodon, Cristo Dio, meno male che c'è il sole. Vai, Relicant, vediamo un po' se riesco a mandarlo giù. Io forse ce l'ho. No, cresce. Che è successo? Cresselia. Cresselia. Io ho vinto. Aspetta un attimo, Cresselia contro cosa cazzo è debole Cresselia. Terra? No. A levitazione? No. Non direi. Terremoto lo butta giù? Secondo me sì. Cioè, oddio, non lo so, dipende quanta vita. In teoria è difensore speciale. A levitazione. E mi ha appena usato maledizione. E come c'è l'evitazione? Strampa. Ah, già è vero. Mi sono confuso con un... Maledizione, no, maledizione, attacco. Mi sono confuso con un shiming. Aspetta un po'. Boh, io t'aspetto a sto punto. Ba... Maledizione, ma mi sciotta. Ok, questo episodio... Se è una vostra fisica mi sciotta. Questo episodio lo devo setacciare per le censure, cazzo. Acqua di sale. Hai retto? Sì. Peccato. Eh, tanto è speciale acqua di sale, no? Sì, sì. Boh, hanno battuto Cresselia. Ti manca ancora il quarto a te, vero? Sì. Kangaskhan? Mi ringrazia che non siamo in sesta gen. Figa. Mega Kangaskhan. Oh, io nel frattempo mi metto dietro con gli eteri. Magima Bernato. Che peccato. Dispiace. Amnesia, amnesia. Aia, sta perdendo. Sono veramente affranto da ciò. Tienesan Tion, me lo credo. Dai, oh, fallisce pure volo. Ma che tumore hai? Dai. Sicuramente con un bel tumorello. Olè, vai. No, non è vero, c'è ancora un po' che è un po' che è dove l'ha tirata fuori. Chi è? Piplup. Vì, la Madonna, tutta sua sclerata per Piplup. Ma dai dove l'ha tirato fuori? Eh, e boh, l'avrà chiesto agli schi mesi. Ho usato torgrato mentre usavo volo. Eh vabbè. Eh sì, lo prende. Davvero? Eh sì. Ma cazzo nolle. No raga io veramente Io ho in bocchina Mi ho ricaricato 8 su pipi La porco di colì Io veramente guarda che provocazione Giochiamo competitive Ok ce l'ho fatta Ma raga io lascio il commentario a Tia Perché le sue sclerate valgono oro E comunque nulla Nel prossimo episodio faremo il campione Conciuti così bella Conciuti a merda Mi piace soprattutto tu 4 poche non penso di riuscirne Magari c'è qualche possibilità di vincere la chissà Eh sì ma per cappotecnico proprio Dai a me Io sto ancora rosicando per delle morti In stasera che non stanno né in cielo né in terra Perché io do l'ultimo Lo do a giudizio terremoto Io aspetterei Di battere il quarto per darli Non si sa mai Tu hai già battuto il quarto Hai battuto Luciano Sì Davvero Io sto battendo Luciano adesso Ma vaffanculo ragazzi Niente se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivetevi Pensavo stessi battendo Vulcano No ma va Lo do a giudizio Sì a sto punto Ok E concludo Sì 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 Nulla ragazzi Io sono Di un stappetio Ha dei problemi Detto ciò Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi ad entrambi i canali Nel prossimo episodio moriremo La serie è ancora in ballo C'è stato un ripiegamento Della situazione Nell'ultimo momento Per il quale Io posso ancora vincere Quindi rimanete sintonizzati Perché nel prossimo episodio Sul canale di Tumore Tia Cosa succede sul canale di Tumore Tia? Prendiamo le botte da Camilla Ok perfetto Ok E quindi nulla Poi per consolarci Ci andremo a drogare Prendiamo ad africano Esatto Poi Camilla è troppo alto P*** 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 Detto Magari 15 haters oggi E nulla ragazzi Passate dai social Per mettere la campanella Le campanelle Per trasformare YouTube In una sacrestia E noi ci becchiamo In un prossimo video Ciao